nooo oddiooo bella ragazzi noi siamo tornati con un nuovo video su FIVA e dopo due settimane che l'altra cosa che non riesca a parlare l'altra cosa ultimata non c'è stata la sfida perchè c'era il pack opening quindi torniamo con la sfida torniamo con la sfida e oggi ogni goal ci prendiamo questo qua che è praticamente si chiama tipo non è Briosker che è quello del discount perchè siamo talmente ricchi che prendiamo quello del discount ho 4 euro e mezzo costa nel Briosker prenderemo una manciata di questi qua che per chi non sa cosa sia non lo fanno tipo l'effetto che voi prendete tipo friccicano dentro la bocca ecco fanno quell'effetto la e calcolate che è tipo una manciata di queste quindi la mano è tipo l'equivalente di un pack intero di quelle cose quindi se ci mettiamo in bocca con questi dovremmo veramente morire soffocati o dalla nostra bava o dalla nostra ma che schifo non mi fa pensare che tipo fa boh che è tipo e per l'occasione abbiamo due cioccole che prima c'erano e non sono pazze dovessi mettere qualche inconveniente così abbiamo una scasione le scade sono casuali quindi a 3 3 1 2 3 da rimarca va bene così vai ma che quindi sfida molto al vertice bomber bomber bentner oh se ne va l'ignoranza del bomber si ma bentner è più forte tutti i miei messi insieme è grave oddio ciò prova no mamma mia regalo ericsson il tiro no ma che tiro fatto bello preciso perfetto subito una girata incredibile si guarda se il mesegnito sta al quadrato che ne va il fisico come t'ha spostato lo che ne può perché tu è un cinghialotto e ancora questo finchialotto cioè davvero è cinghialotto da giù dei mini che fai così guardalo guarda che gioco di merda che c'hanno infatti tu bentner non ti ricordo manco come cazzo si chiama la squadra bentner gole goooool bentner non ti ricordo come si chiama che erano lucas lucas bentner porca droni va bene volete più volete più io moro già c'ho la tosse non ce la fa eh regi ooooh ho friccio con il cuore oh no eh eh vai 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 mmm 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 si vabbè ho i vecchi ho i vecchi ho i vecchi che c'è il tasto noi devi masticare noi devi masticare noi devi masticare noi devi masticare oh o cromdeli mmh 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 mh mmh no che schifo non scudato mi da dei 1d città oddio ma che era in panna pottata stavo scoppiando porca droga però me si allargava mamma mia che si vedeva un po ma tu sai che fai tipo montata neve capito? mamma mia ma che fai freggiato no ma sto coso che vai di come si chiama che è? c'è Bettner no vaffanculo Bettner mori che cosa? rigore calcio di rigoro ma fallo de che? ah su Gerard io ho già la battuta apprezzione fallo de che fine primo tempo una zero per la Danimarca incredibile bello mamma mia quanto corre quanto corre oddio oddio ma quanto corre questo dai vai 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 ma che ha frellendi quello ho preso di por doppio di questi io porco due capito c'ho la bocca più piccola sti cazzi io non faccio i bocchi come te si vai vai ecco a posto pure questi qua per te ma che cazzo fai? non faccio i boffolotti dai sbrigare era sempre il furbo ma qual è il furbo? corroso ma come entra in un bocca non mi entrano in bocca vai tranquillo che entrano facevi tanto al 4 guarda il bagno volevi vincere senti che roba mh guarda mh 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 è ancora stato sciolti ma aspetta vai aspetta che stai sciolti mh 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 che cazzo vuoi da me 2 riuscita un ballopo grosso così portato e che brutta scena se ti vuoi chiudere la bocca mi scoppia i guanci no firma te stava lasciando bruttissima hai fatto tipo un embrione ed è uscito dalla bocca che schifo vabbè comunque comunque si comunque c'è una cosa assurda perchè si espande piano piano e non si ferma eh se no lo sputi si espande e ti buca cioè scoppi incredibile guarda si azzoppano tutti bentner sei fortunato sei rotto un ginocchio e tirate in un mare oliverg lo vedi fuori lo vedi fuori l'ho fatto lo vedi fuori guarda non lo vedi fuori boom la rata l'ho fatto pochettine che con il non posto crott un bombone bombone e si condi cronnelli con la fascia cronnelli e velocissimo E Porco Non è vero Non è vero No Questo porco il tuo Ma che cancello Era più bello il mio Più che altro con chi hai fatto Eh con il cinghialetto incredibile Mamma mia che gole ragazzi Il portiere si guarda la palla Ecco eh Arrivano Eh brucia vai Brucia ancora con le mani da bambino Il mio scelto era una biro Guarda che cristo dio Che cazzo stanno a fa? Che stanno a fa? Questa andrà Questa andrà Cioè uno fa i golle del porco due De pallone d'oro fra un po' Gooooooo Nooo Luca Podolski Si chiama Nicolás 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 scusa Nicolás Nicolás Vabbè dai andiamo Noi che cazzo C'ho provato Cioè Vedo che la fa l'altro Costa me da un bocca Stai rompendo in mente La che è tipo No 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 Tipo mi da Dai vanta giù Al schiuma La raga tutti invita te a casa mia a fare uno schiuma party Finisce qui 3 a 2 No no mi stavo facendo male Eh ho detto che non voleva mai Stavo veramente scoppiando Anche questa sfida È ferita Noi ci becchiamo al prossimo video E speriamo vi sia piaciuto Se volete a rivincita a Crill Qua sotto tanto ce ne abbiamo in abbondanza A voglia A voglia bastano per farti 10 video Quindi se volete a rivincita di questa sfida Se lo scrivete Non dare un like per cosa che ci mi ha detto Cioè sono un uomo epico Porca puttana Bella Ciao